Buongiorno Mara e benvenuti ad Infermi di riporto di nome. Ciao a tutti. Vorremmo conoscerti meglio e sapere qual è la tua esperienza professionale e quali sono le motivazioni che ti hanno spinto ad entrare a fondare gli etni insieme ai soci confondatori e qual è il contributo che vuoi portare all'interno di questa associazione. Come hai già detto sono Mara. Ciao. Faccio un'infermiera da 20 anni. Ho cominciato il mio primo lavoro in reanimazione che è stato il mio grande amore. Ci ho lavorato parecchi anni, poi ho fatto una mini apparizione in malattie infettive e dopodiché sono tornata a lavorare nell'ambito dell'emergenza. Adesso sono con questo 13 anni che lavoro presso la centrale operativa del 118 di Vicenza. Sono una socia fondatrice della IET, l'unica femmina di questi soci fondatori e sono orgogliosa anche di essere, di rappresentare il sesso che in realtà è sesso forte poi per quanto riguarda l'aspetto infermieristico del lavoro. Il contributo che vorrei dare è innanzitutto portare quello che è l'entusiasmo per questa nuova avventura che abbiamo intenzione di intraprendere. Poi come secondo punto, visto che sono tanti anni che lavoro al SUEM, vorrei poter riallacciare e fortificare molte conoscenze e molte amicizie che abbiamo sia all'interno del servizio che con la struttura a noi afferenti, quindi con i punti soccorsi della periferia, in modo tale da far crescere questa associazione. Vorrei poi sfruttare quello che è un lavoro che da tanti anni mi occupa e mi entusiasma, che è quello di fare docenza e poter contribuire anche in questa maniera perché IET venga conosciuta e che vada avanti. Proprio per quanto riguarda la docenza, Cadea Fagiolo, volevo chiederti, all'interno del vostro statuto citate la formazione. Secondo te, quali sono tre aree tematiche di rilevanza importante che in questo momento sono essenziali per gli infermieri e che vorreste portare avanti come formazione per i colleghi? Direi che innanzitutto, prima ancora della formazione, c'è la conoscenza reciproca e questa è di fondamentale importanza per abbattere barriere spesso comunicative che sembrano insuperabili, invece con un po' di informalità diventano facilmente superabili. Detto questo, direi che ormai l'infermiere ha raggiunto dei livelli di formazione con degli standard molto elevati. Direi che questi standard però vanno livellati nel nostro territorio. Direi che innanzitutto sentirei la necessità di standardizzare e uniformare il trattamento, ad esempio, dell'assistenza con i presidi sopravaglottici. Come mi sentirei di battere la strada della terapia dell'ipotermia nei casi di recupero dell'arresto cardiocircolatorio. Altresì direi che l'utilizzo della procedura intraossea per l'infusione di liquidi in casi appunto di pazienti particolarmente gravi è un tasto appunto che dobbiamo battere e che dobbiamo standardizzare. Proprio in questo senso parlavi di standardizzazione delle manovre. Bene, per quale necessità che vi spinge a voler standardizzare tutto? La standardizzazione nasce nel momento che ci sono delle conoscenze di base condivise, addirittura create dal gruppo che poi viene ad utilizzarlo. Per cui standardizzare significa dare il massimo risultato nell'assistenza ai pazienti che noi andiamo a soccorrere. Standardizzare significa che io in centrale operativa so che cosa sta facendo il collega in periferia e viceversa. E questo è assolutamente il punto cardine per essere vincenti nell'assistenza ai nostri pazienti. Infine passo alla seconda parte del vostro statuto dove voi dichiarate di essere a confessionale da partitici. Per quale ragione avete avuto voglia e desiderio di chiarirlo fortemente sullo statuto? L'abbiamo chiarito e l'abbiamo sottolineato perché la nostra associazione nasce soprattutto per diffondere la cultura. La cultura non ha colore, non ha partiti e quindi abbiamo ritornato opportuno a sottolineare questo aspetto. Grazie Mara, in bocca al lupo per questa iniziativa e ci vediamo a 26. Assolutamente, grazie a voi. Grazie a voi.